Ciao a tutti, questo è un video di teoria. Teoria pura. Vi voglio parlare dei comandi dollaro. Comandi dollaro sono importanti. Perché sono importanti? Perché sono quelli che ci consentono di settare il nostro laser o quantomeno di andare a controllare i settaggi se fossero giusti o meno. Difficilmente bisogna intervenire, solitamente si interviene quando andiamo a fare qualche modifica abbastanza radicale sul nostro laser, sulla nostra scheda madre eccetera eccetera, però ritengo che sia importante che chi è appassionato di laser e chi voglia un po' approfondire anche quello che ci sta dietro al semplice utilizzo del laser ma voglia un po' anche imparare come funziona il laser, quali sono le peculiarità, quali sono i comandi, quali sono quelle cose che ci possono servire, ritengo che sia fondamentale ad avere una piccola infarinatura, un piccolo assaggio, chiamiamolo così, dei comandi dollaro. Chi mi ha contattato e quelle persone con cui mi sono messo in contatto tramite i vari programmi di condivisione del desktop vedono che la prima cosa che faccio quando entro nel loro computer, nel loro Lightburn è di andare a fare sulla finestra console dollaro dollaro e andare a vedere le impostazioni, perché di lì è un po' come il dottore quando ti guarda e deve capire cosa ha, ti misura la pressione, ti misura la febbre, ecco io con dollaro dollaro faccio il dottore che va a misurare la febbre, a misurare la pressione, a oscultare il battito cardiaco eccetera eccetera. Quindi è la visita preliminare quella del dollaro dollaro. In tanti mi hanno chiesto perché non ce li spieghi un po' questi comandi dollaro. I comandi dollaro sono fondamentali e sono fondamentali perché? Perché se vogliamo conoscere a fondo il nostro laser vogliamo andare a fare anche delle piccole modifiche, perché a volte vedo che ci sono delle richieste sul gruppo facebook piuttosto che nei commenti del canale youtube dove mi si chiedono alcune cose che sono molto banali se noi andiamo a conoscere questi comandi. Come vi dicevo la prima cosa che faccio quando entro in un computer altrui, quindi busso, chiedo il permesso e poi vado a digitare dollaro dollaro nella console e do invio. Come vedete qui mi appaiono tutti questi dati questi qua sono i comandi dollaro ovvero sia quando noi diamo accendiamo laser e accendiamo lightburn questi sono i comandi che vengono impartiti a lightburn ma laser alla scheda madre che andrà a far lavorare il laser. Ce ne sono tanti non serve conoscerli tutti non serve conoscere mnemonicamente tutti anche perché lightburn ha una funzione che è molto interessante e che si trova da modifica e andiamo in impostazione macchina. In impostazione macchina appare questa videata dove vedete che ci sono purtroppo ancora in inglese delle spiegazioni di cosa sono i comandi dollaro. Vedete che qui abbiamo per esempio dollaro 11, dollaro 12, dollaro 21, dollaro 22 e di fianco ci sono o dei valori o dei commutatori vero falso. Allora falso quando il valore di quel dollaro, il comando è vero è vero se è 1. Per esempio vediamo qua che io ho a dollaro 20 falso e se vado qua vedete qui in fondo io ho dollaro 20 uguale a zero quindi è falso. Se io vado a ok ora qui scendo un attimino poi la riaprero dopo se io rivado a rivederla in questo modo qua un pochino più ampliata vedete che avevo dollaro 20 è uguale a falso zero dollaro 21 uguale a falso che è zero dollaro 22 che è uguale a vero e infatti è 1 quindi 0 vuol dire falso 1 vuol dire vero questo è tradotto in minimi termini su lightbar però non è proprio veramente una cosa corretta questa perché se io vado a aprire quest'altra finestra e che mi dice attenzione quella finestra potesse combinare dei casini se vai a fare delle cose un po' strane ma se ne aprono delle altre e vedete che qui io ho dollaro 23 uguale a vero quindi vuol dire che è 1 guardate cosa ho su dollaro 23 ho 3 perché perché ci sono alcuni comandi dollaro come e ve li faccio vedere e richiudo questa perché non mi fa lavorare sulle due cose vedete che io ho qua dollaro 3 uguale a 1 poi c'è dollaro 2 ma quello lo lasciamo da parte perché solitamente dollaro 2 uguale a zero va bene così non vi sto a spiegare pedisseguamente cosa sono ma volevo farvi vedere quelli tre fondamentali da capire che quello che dice lightbar vero falso non corrispondono molto a una cosa vera perché per esempio dollaro 3 uguale uguale a 1 e in lightbar mi dà lo andiamo a vedere modifica andiamo in impostazione macchina dollaro 3 che me lo vede qua all'inizio dovrebbe dirmelo all'inizio non me lo dice sotto ecco qua dollaro 3 uguale a vero 1 io qui ho 1 ed è vero però potrei avere anche 2 3 4 5 6 7 e anche 8 perché dollaro 2 dollaro 3 e dollaro 23 che sono dollaro 2 è una cosa un po particolare non la spiego perché non serve mai dollaro 3 è l'inversione degli assi ovvero sia quando il nostro laser come tanti post del canale o youtube che mi mettono nei commenti o nel gruppo dicono mi scrive alla rovescia mi scrive sotto sopra mi scrive specchiato eccetera eccetera deriva proprio da dollaro 3 perché se il cavo che connette la scheda madre con il motore è un cavo che non è proprio quello originale oppure perché è un cavo che sono stati invertiti due poli e bisogna intervenire su quello nel mio caso allora se non ci sono problemi dollaro 3 uguale a 0 perché dice non invertire nessun asse ok io nel mio ho cambiato ho dovuto cambiare purtroppo perché mi si era bruciato un cavo al motore dell'asse delle x cosa è successo è successo che il cavo che ho comprato non era perfettamente uguale a quello che avevo in originale ma c'erano due cavi su quattro se non vado errato sul che comandano il motore c'erano due erano invertiti quindi ho dovuto invertire l'asse delle x allora per invertire l'asse delle x io devo dire dollaro 3 uguale a 1 se dovesse invertire l'asse delle y dovrei dire dollaro 3 uguale a 2 se dovessi invertire l'asse delle z non è il nostro caso perché quasi nessun laser ha anche l'asse delle z dovrei dire dollaro 3 uguale a 3 se dovessi invertire sia l'x che l'y dovrei dargli un'altra cosa che si chiama maschera c'è una maschera booleana vi metto qua adesso vi faccio vedere ecco vedete questa è la maschera booleana dove ci sono tutti i valori ovvero sia cosa devo andare a scrivere per poter invertire l'asse x l'asse y lasciamo perdere l'asse z che non ci serve molto a noi quindi come vi dicevo se io devo andare ad invertire degli assi devo andare a modificare quel valore lì di s di dollaro 3 dollaro 3 uguale a 0 non mi inverte nessuno degli assi come vi dicevo dollaro 3 uguale a 1 mi inverte l'asse x dollaro 2 y se scrivo dollaro 3 mi inverte sia l'ax che l'y se scrivo altri numeri mi fa diverso questa è la tabella ve la faccio vedere adesso qui ci sono tutte le varie combinazioni dell'inversione degli assi quindi x y e z questo vale per dollaro 3 che praticamente io ho dovuto invertire nel mio caso l'asse delle x poi il dollaro 23 che anche questo è molto importante perché il dollaro 23 è quello che mi inverte gli assi nella ricerca dell'homing quindi se il vostro laser quando vi va a fare una ricerca dell'homing invece di andare dove deve andare vi da un'altra parte dovete andare con quella maschera che vedete dovete andare a intervenire su dollaro sul comando dollaro cambiare il comando dollaro e andare a scriverlo sul firmware perché noi quando digitiamo qui in questa posizione dove c'è scritto digitare comandi qua io posso andare a scrivere direttamente sul firmware del laser quindi mentre con diciamo questa funzione della periferica io dollaro 23 qui io posso dire solamente scusate dollaro 23 ce l'ho qui sotto eccolo qua io qui posso andare a scrivere solamente vero falso quindi 0 1 dovessi dargli 2 3 4 5 6 7 8 non posso quindi devo andare a scrivere in console ok questi sono quei parametri che si cambiano più di frequente che è giusto che voi li conosciate andiamo a vedere altri parametri che possono essere interessanti sono innanzitutto le dimensioni della nostra macchina quindi quando io vado a andare a dare le dimensioni alla nostra macchina ve lo faccio vedere prima qua su dollaro dollaro la mia macchina ha al netto dei carrelli al netto di eventuali protuberanze che ho per quanto riguarda il supporto a telecamera bla 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 io ho che la mia macchina è 370 per 315 sono dollaro 130 e dollaro 131 quindi se io dovessi ampliare il mio laser mettendoci delle prolunghe eccetera eccetera andando lì vado a mettere nel firmware della macchina 370 e lo voglio portare a 500 metto 500 a 6x quindi vado a scrivere dollaro 130 uguale a 500 e dollaro 131 da 315 lo porto a 400 scrivo dollaro 131 uguale a 400 si può fare anche qua sì in impostazione periferica ma qui non vado a scrivere sul firmware qui vado solo ad ingrandire o rimpicciolire quello che è la griglia della mia area di lavoro attenzione questa è una cosa molto importante non pensiate che andando a scrivere qua determinati valori mi va sul firmware questo serve solamente per andare a impostare l'area di lavoro altri valori che si potrebbero cambiare per esempio un cambio scheda io per esempio adesso ho rimontato la vecchia scheda madre quindi la makerbase dlc quella 8 bit perché sto facendo alcuni esperimenti quindi ogni tanto ho la 8 bit ogni tanto la 32 a secondo di quello che sto sperimentando e quello che posso cambiare una delle cose che posso cambiare quando passo da una scheda all'altra sono le velocità la 8 bit quindi la makerbase dlc v21 che è diciamo quella un po' vecchia non mi consente di avere velocità superiori ai 3000 mm al minuto e quindi vedete qua ora vabbè 110 ho messo 5000 perché stavo facendo un po' di esperimenti ma con 5000 non lavora molto bene e quindi e qui l'andrò a cambiare dollaro 110 uguale a 3000 le dico la velocità massima che può sopportare la mia scheda madre e il mio laser in questo caso è quel dato che metto lì quindi vedete qui ho l'asse delle x che è il 110 che è a 5000 l'asse delle y che è a 3000 l'asse delle z non mi può fregare di meno perché non ce l'ho e quindi io voglio andare a rimpostare questo dato perché 5000 è troppo per la mia scheda perché non ci arriva anzi rischerei di fare dei lavori veramente cioè mi accorgo che se gli do dei valori superiori a questa velocità mi fa proprio delle robe oscene quindi io vado qua e vado a mettere dollaro 110 uguale a 3000 la vado a impostare al massimo che supporta la mia vecchietta scheda vecchietta poverina col bastone come vedete l'ho fatto molto semplicemente in fondo viene scritto se scendiamo che io ho scritto dollaro 110 uguale a 3000 e mi dà ok ovvero sia ho recepito il comando mi hai comandato di mettere la 3000 io l'ho fatto se io arrivo ad fare dollaro dollaro così riscendo e vedete che ho dollaro 110 uguale a 3000 questo è un altro di uno uno degli altri valori che dovete conoscere insieme anche a questo dollaro 100 e dollaro 101 che sono i microstep vi possono servire per due cose per settare il laser in modo per la calibrazione degli assi e qui vi metto il video che ho fatto per quanto riguarda la calibrazione degli assi se vi accorgete che qualcosa non funziona vedete che fa un cerchio appiattito da una parte oppure vi fa delle cose un po' strane fate la calibrazione degli assi e vi spiego come fare però non andate lì c'è anche una funzione di light work molto veloce che fa dei calcoli al posto vostro e va a fare in modo di correggere questa cosa oppure se dovete passare da un rotary a una lavorazione con un rotary a una lavorazione sul piano normale dovrete andare a modificare perché si usa il motore delle ip se non per il rotary dovrete andare a modificare perché non sono mai uguali i motori e quindi le impostazioni dei micro passi sul laser piano piuttosto che sul rotary allora io in descrizione di questo video vi metterò un link ad un sito dove ci sono tutte le spiegazioni di tutti i valori e sono è una pagina di github dove sono in inglese con il traduci da qualsiasi browser ve li traducete in italiano perché come vi ho fatto vedere prima qui si Lightburn ha già tradotto quasi tutto il sito però questi no quindi potrebbero essere un po' criptici per chi non è molto addentro a certe terminologie in inglese quindi vi metto quello chi vuole approfondire lo approfondisce se qualcuno vuole farmi qualche domanda me le faccio pure tranquillamente perché io ritengo che sia veramente importante conoscere la propria macchina sarà che sono fissato io quando compro un meccanismo nuovo una macchina nuova un accessorio nuovo eccetera io mi vado a leggere le istruzioni cerco di capire le cose forse forse esagero forse è meglio mettere lì calcare un bottone sì però quando succede un problema vado dal meccanico ok se invece so qualcosa intanto potrebbe essere solamente un interruttore da spostare con questo vi lascio io vi saluto spero di non essermi dilungato troppo però è utile sapere queste cose vi saluto se vi piace questa tipologia di video dove si parla anche di teoria mettetemi un like se non vi è piaciuto non vi piacciono i miei video in generale mettetemi un like quindi dovete mettere un like per forza dovete iscrivervi al canale non siete ancora tutti iscritti lo guardate ma che vi costa iscriversi calca un bottoncino non vi costa niente per me è importante farmi crescere perché più cresco e più cosa riesca a darvi mi date anche molto più entusiasmo me ne date tanto e scrivendovi e cliccando sulla campanellina tutte le volte che farò un video nuovo se vi farà piacere potete venirlo a vedere e qualcuno vi avviserà TikTok guarda un po' che c'è un video nuovo di Italo ciao a tutti ci vediamo al prossimo video un abbraccio